Celebriamo questo Natale 2021 con ancora la fatica di affrontare le limitazioni della pandemia. A questo si aggiungono la violenza sulle donne, registriamo ancora gli incidenti mortali sul lavoro e poi constatiamo la presenza di queste masse di disperati che alle porte dell'Europa bussano chiedendo un po' di pace e di serenità. Quando in questi giorni ascolteremo il Vangelo della Santa Famiglia che fugge in Egitto abbiamo oggi nelle persone che appunto sono senza casa, senza un paese, che scappano dai loro paesi un'immagine viva di questa rappresentazione della Santa Famiglia. Non possiamo certo celebrare il Natale facendo finta di niente, buttandoci nella girandola degli acquisti dei regali, dei cenoni. Abbiamo bisogno ecco di recuperare una dimensione più vera del Natale. Io vorrei raccomandare a me stessi e a voi due attenzioni. La prima ricordare che l'essenziale ci viene donato dall'alto. Tutti noi abbiamo fatto esperienza di quanto siano precarie certe gioie, certe soddisfazioni puramente umane legate alle cose che abbiamo e che viviamo. Il Signore ci promette una pace che entra nel cuore dell'uomo, quella che sperimentarono i pastori, gente povera ai margini della società, ma che nell'incontro con il bambino Gesù sperimentarono davvero una realtà nuova, esperienze, sentimenti che rimasero nel loro cuore. E poi ecco la seconda indicazione, ce la ricorda proprio il Vangelo, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Questo invito è specificato da Giusto stesso che ai suoi interlocutori diceva quando date un banchetto non invitate coloro che vi possono ripagare, ma i ciechi, gli storpi, gli soppi, i poveri, coloro che non potranno che dirvi grazie e riceverete qualcosa di ben più grande. Si tratta di prendersi cura delle persone che non hanno niente o vivono situazioni di grande fatica e difficoltà. Potrà essere un pensiero, uno scritto, una telefonata, una visita. Questo credo che ci farebbe sperimentare come anche in noi questo Natale che viene porta qualcosa di straordinariamente piccolo, ma significativo e grande. Auguri a tutti!